Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra dove per la penultima giornata della regular season della Serie A della Lega Calcio 8 si affrontano Roma Calcio 8 e selezione romana Mediolanum. L'azione portata dalla Roma centralmente face lo scarico, buono a destra per Chianese, buono il dribbling e poi un grandissimo gol di destro di Chianese, di incontro di collo, 1-0. Lancio lungo della Roma Calcio 8 che è partita forte di nuovo per Chianese, ci coordina ancora Giuseppe Chianese e la sua doppietta splendida a portare avanti la Roma, 2-0. La selezione romana prova in pressing a uscire dalle posizioni difensive, palla a Gaetani, carica il sinistro e la deviazione sfortunata del capitano Simone Quinquinio, il gol che accorce le distanze per la selezione, 1-2. La selezione è rinvigorita dal gol dell'1-2, si riportano avanti, c'è il tiro deviato, poi arriva Devoto che batte goletti, pareggio della selezione romana Mediolanum che rialza la testa in finale di primo tempo, 2-2. Impostano i ragazzi di Avalone, c'è però la sfera recuperata bene da Giancarlo che se ne va in gran dribbling, Giancarlo irresistibile, la sua corsa come il suo destro a incrociare, il 3-2, nuovo vantaggio per la Roma Calcio 8. La Roma spinge ancora sull'acceleratore, di nuovo Giancarlo in possesso, la sfera scaricata a destra, l'1-2 che si chiude, Giancarlo, ancora lui a battere Avalone, altra doppietta per la Roma, è il 4-2 di Giancarlo. La selezione romana non ci sta, è imposta, Buccarello prova a controllare il limite, poi un rimpallo che lo libera, al lato corto il cross e tutto solo, può segnare Gaetani la sua doppietta personale che riapre ancora il match, 3-4. La selezione prova ad attaccare adesso, la sfera però è a centrocampo, il pallonetto da lontanissimo, un gol straordinario di Sestili, ma come ha fatto a pensarci Avalone fuori dai pali, è un gol stupendo il 5-3 della Roma. Fallo laterale per la Roma Calcio 8, c'è lo stop di Chianese, Avalone stavolta si supera sulla sua rovesciata. Corner lungo della Roma, occhio a Chianese, che l'appoggia di piatto Giuseppe Chianese, la sua tripletta, a chiudere il conto per la Roma, 6-3. La selezione che prova a impostare, manca pochissimo, c'è una deviazione fortuita in fallo laterale, quando arriva il triplice fischio del direttore di gara che sancisce la vittoria, importantissima in chiave play-off, della Roma Calcio 8 che batte 6-3, la selezione romana Mediolanum è a 50 minuti dal termine, e sesta sola in classifica. Era una partita importante, Ragnetela ha vinto, stava a due punti, insomma abbiamo ripreso il passo per essere sesti, era importantissimo, noi abbiamo dimostrato ci siamo, ci siamo e vogliamo passare e poi andarcela a giocare.